Vicenza, Pescare Show 2018, dallo stand Proteipol Molix, io sono Vincenzo Muscolo e vi voglio parlare di un progetto, un progetto che ha richiesto un grande investimento in termini di risorse, di quattrini, di persone e di tempo, un progetto su cui lavoriamo da oltre due anni per poter presentare in questa fiera la nuova serie di fioretto speciale. Ho parlato di anni di studio perché abbiamo cercato di lavorare con i migliori partner per produrre delle canne di grande livello, dove la combinazione dei materiali è stata la chiave di volta per avere oggi questa serie di attrezzi dedicati allo spinning in mare e acque interne. Design made in Italy, un design molto particolare, minimalista, essenziale, con componentistiche di assoluto pregio, dove non abbiamo assolutamente badato a compromessi, volevamo il meglio che il mercato potesse offrire, quindi blank particolarmente leggeri e reattivi, caratterizzati tutti da dei max drag elevatissimi, canne indistruttibili. Finiture di prima qualità, non abbiamo tralasciato nulla, abbiamo voluto Fuji, tutti anelli SICK sulle nostre attrezzature, placche Fuji e Alps che caratterizzano soprattutto il design di questi attrezzi, attrezzi essenziali, minimalisti perché è tutto all'interno dei nostri nuovi grezzi in carbonio. Vicenza, Fescare Show 2018, io sono Vincenzo Buscolo e vi presento l'ultima escanata dalla collaborazione tra Molex e Jeffing. Sempre serie Tarpon, questa volta un V2D extra large, 18 cm e mezzo per 34 grammi di peso. Solite peculiarità della serie Tarpon, tecnologia 3D applicata ai mold, armature in acciaio inox passante, ancorette split ring di grande qualità. Un V2D classico da utilizzare per avere movimenti ampi e sinuosi oppure da utilizzare in maniera più frenetica e rapida per avere movimenti più stretti e veloci. Peculiarità nella lunghezza, in questi 18 cm e mezzo, il fatto di poterlo sfruttare anche come una stick boy, quindi facendolo correre veloce e saltare sull'acqua per stimolare ancora di più l'aggressività dei predatori. Vicenza Pescare Show 2018, io sono Vincenzo Buscolo dallo stand Molex Proteicon. Novità di quest'anno, l'S S Shad da 4 pollici, una versione leggermente più piccola di quella precedente, una versione dedicata ai predatori, in mare e acque interne. Solite peculiarità, una gig head con amo snodato, quindi grande mobilità, maggior mobilità anche dell'esca e minori rischi di slamare il pesce. La gig head come al solito scompare all'interno del corpo dello Shad, rendendola ancora più accattivante nei confronti del predatore. La confezione, questa volta tre corpi, due montati, uno con una gig head da 5 grammi e uno con una gig head da 7 grammi. Il terzo da montare di scorta secondo quelle che sono le vostre esigenze. Grazie a tutti.